Allora, Gabriele Gallina, rieletto sindaco di Soncino, ormai manca solo l'ufficialità. Un commento a caldo sul risultato? Il risultato è molto soddisfacente perché siamo attorno al 70%, una percentuale che non c'era mai raggiunta a Soncino. Sicuramente i cittadini hanno dimostrato che hanno apprezzato quanto abbiamo fatto in questi cinque anni, hanno apprezzato probabilmente la nostra campagna elettorale, hanno apprezzato il nostro programma elettorale. Sono molto soddisfatto di questo. Qual è stata, secondo lei, la vittoria in campagna elettorale? Cos'è che nella campagna elettorale ha fatto la differenza tra centro-sinistra e centro-destra? Allora, il centro-sinistra si è concentrato, purtroppo, per loro, nel criticare e nell'attaccare a livello personale il centro-destra e i suoi componenti. Noi abbiamo proposto ai cittadini un programma elettorale, abbiamo ricordato cosa abbiamo fatto in questi cinque anni senza attaccare nessuno. Penso che anche questa cosa ha fatto la differenza per molti cittadini nella scelta del cambiato da votare. Grazie.